Primo giorno di lavoro, il presidente Anelli è sul campo, accanto ai propri ragazzi per testare già quello che è il terreno di gioco. Una stagione di eccellenza che presenta un campionato bello, importante, avvincente e che vuole soprattutto l'insieme a Osonia tra i protagonisti. Lei già a fine campionato aveva detto voglio una squadra tra quelle protagoniste e così è stato fatto nel corso dell'estate e si è lavorato. Sì, è un piacere per me, alla mia età, avere una squadra che possa essere competitiva fino all'ultimo per avere una scarica di adrenalina e giocarcela. È difficile sempre qualificarsi su in alto però ci dovremo provare, speriamo bene insomma. Poi in generale è il campionato che è affascinante, sono le trasferte che sono affascinanti, sono anche le squadre che parteciperanno a questo campionato che molti già conosciamo, altre dovremo incontrarle per la prima volta. Voglio anticipare qualsiasi domanda, onestamente il mio pensiero va sempre da formiano di adozione, va sempre al Formia e spero con tutto il cuore che venga ripescata per ritrovarci in eccellenza insieme per molti motivi. Prima per il mio affetto e attaccamento alla città di Formia, Formia è una grande città, è una bella città e merita di avere una squadra come nel passato ho avuto, quando ero ragazzo ti favo Formia insieme ad amici miei e poi detto sinceramente adoro, io le trasferte a costo zero. Una domanda va fatta sul campo, è diverso scendere il primo giorno e sapere che si è già in eccellenza, il lavoro è stato diverso quest'anno, scorso anno l'eccellenza arrivò alla fine, invece quest'anno c'è stata quella grande parola che si chiama programmazione. Lei ha centrato perfettamente la domanda, l'anno scorso si ricorderà che eravamo nella gradatoria dei ripescaggi quinti e si era fermato il tutto al quarto ripescaggio, non sapevamo fino all'ultimo giorno, abbiamo fatto la richiesta di iscrizione però non lo sapevamo, per cui molti giocatori o restavano oppure non si è potuto programmare nulla e nonostante questo tutto sommato non è andata male il campionato l'anno scorso per essere il primo anno di eccellenza. Adesso facciamo parte già dai veterani, è il secondo anno e quindi la consapevolezza di giocarcela in quel tipo di campionato, quindi abbiamo provveduto, speriamo di non aver sbagliato perché poi non è una scienza esatta il calcio. Ci saranno due amichevoli qui ad Osonia, non so se ci sarà anche la presentazione ufficiale della squadra ma i cittadini sono tutti invitati già a venire a accompagnare questa squadra. Senz'altro, già coloro i quali ci hanno seguito fino adesso, già sono in contatto costante con noi e guardi, sicuramente faremo una presentazione a fine agosto, insomma, prima che inizi il campionato e mi auguro di avere la stessa, se non di più, frequentazione dell'anno scorso perché nonostante un piccolo paese a Osonia adora il calcio e si è affezionata anche ai colori dell'insieme a Osonia. Roberto Gioia, primo giorno del settimo anno, potremmo dire così. Si inizia con il raduno sul campo di Osonia, un campo che si è presentato subito pronto per questa squadra ma è una squadra, potremmo dire così, nuova quest'anno l'insieme a Osonia. Sì, hai detto bene tu, è una squadra nuovissima, non nuova perché se si considera che ci sono almeno una quindicina di volti nuovi, quindi capisci bene che assolutamente sia una squadra rivoluzionata. Abbiamo tante, tante aspettative, la società, io, tutti, quindi da oggi ci mettiamo al lavoro sperando che poi i frutti ci diano ragione. Che squadra è questo insieme a Osonia quest'anno? Lo devi ancora testare sul campo ma sulla carta, secondo me, con Damiano Delburgo e con Carlo Iodici avete lavorato per creare uno schema consono al tipo di gestione del pallone. Sì, abbiamo lavorato da appena finito il campionato, quindi abbiamo cercato di prendere tutto quello che era nelle nostre intenzioni. Ad oggi posso dirti tranquillamente che ci siamo riusciti, però poi come è giusto che sia è sempre il campo quello che parla, quindi vediamo, ci mettiamo sotto da oggi e poi fra qualche tempo ti dirò se le scelte sono state quelle giuste, quelle che tutti ci auguriamo. Ci sarà il ritiro ad Acqua Fondata, quindi squadra che va in ritiro, ma va in ritiro come le grandi squadre, si rimane lì tutta la giornata e si lavora a stretto braccio, serve anche per fare gruppo? Esatto, questa è stata la mia scelta, ho parlato col Presidente, come sempre il Presidente si è messo a disposizione, ho detto che avevamo bisogno di una settimana di ritiro, ma più che per lavorare, è chiaro che poi quello deve essere il primo pensiero, però più che per lavorare, per cercare di fare gruppo come hai detto giustamente tu, perché è uno spogliatoio nuovo, quindi c'è bisogno di stare il più tempo possibile insieme, perché il gruppo come è sempre stato è fondamentale, prima si riesce a farlo e prima poi si vedono i frutti in campo. Non sono ancora usciti i gironi, ma sarà un'eccellenza che avrà nove ripescate quest'anno, sintomo che il campionato potrebbe avere dei sobbalzi o magari degli equilibri strani. Sì, vediamo, vediamo, siamo tutti curiosi di vedere questi gironi, è chiaro che squadre come le due Pomezzi, il Team Florida, queste sono squadre che si stanno preparando alla grande, ho letto bene anche del Monte Spaccato, sicuramente poi ci sarà qualche altra e fra queste ci mettiamo pure l'insieme a Usonia sicuramente, però ecco, dobbiamo aspettare questi gironi, poi sicuramente possiamo dire qualcosa in più. Il 12 sarà un amichevole di lusso contro l'Alba Longa, ma il calendario è bello ricco con incontri con Monte San Biagio, Mistral Gaeta. Sì, iniziamo sabato, facciamo la classica partita in famiglia, sabato pomeriggio qui da noi e poi faremo il 12 con l'Alba Nova qui in casa, dove se non vado errato il Presidente ha detto che ci sarà anche la presentazione della squadra, dopodiché faremo il 19 mattina qui con la Mistral Gaeta e il 25 andiamo a Monte San Biagio, tutte grandi squadre, Albanova è eccellenza come noi, ma la Mistral e il Monte San Biagio sono due grandi squadre che si stanno preparando per obiettivi importanti in promozione, quindi saranno tre teste importanti, speriamo di farci trovare già pronti. Solo sulla carta, la rosa è completa o manca ancora qualche elemento? Diciamo che è completa, dobbiamo cercare soltanto di vedere se qualche 2000, se possiamo inserirlo o se siamo bene così, dobbiamo lavorare anche per questo, c'è bisogno di iniziare il prima possibile, a vedere soprattutto questi 2000 se stiamo bene così o ci dobbiamo ancora guardare attorno. Damiano Del Borgo, quest'anno parte veramente attiva nella costruzione di questa squadra, prima di tutto descriviamo questa squadra, come è stata costruita, come sono stati scelti i giocatori? Ma io penso che abbiamo costruito una squadra di alto livello, di fare da primi posti, poi il campo è quello che decide. Cosa manca ancora a questo insieme a Sonia? Un gruppo è bello nutrito, oggi primo giornalamento lo vediamo, bello nutrito ma si sa il mercato non è mai chiuso e il colpo può essere giro l'angolo. No, aspettiamo un altro 2000 e poi diciamo che siamo a posto.